Ancora un macabro episodio nel Terramano. Un uomo è stato ritrovato a cadavere questa mattina all'interno della sua abitazione nei pressi di Contratta Piano Grande, a Torricella Sicura. È stato ritrovato riverso a terra nella sua stanza da letto e il corpo era in evidente stato di decomposizione. A trovarlo i vigili del fuoco di Terramo, dopo una segnalazione del titolare, un venezuelano, della carrozzeria Caserta e Maciado. Il corpo ritrovato è quello di Carmine di Luca, un settantenne originario di Napoli, ma che risiedeva a Torricella da oltre 15 anni. L'uomo sarebbe stato ucciso con almeno 20 coltellate. Questo è quanto sarebbe emerso dall'ispezione cadaverica effettuata sulla salma del pensionato questo pomeriggio l'obitore dell'ospedale Mazzini di Terramo, dal medico legale Giuseppe Sciarra. Secondo l'anatomo patologo, il corpo senza vita è rimasto a terra per almeno 10 giorni. Ma ricostruiamo brevemente la giornata. A dare l'allarme il titolare della carrozzeria, sito al pian terreno dello stabile, insospettito dal fatto che il pensionato non si faceva più vedere da giorni. Nonostante lo facesse comunque pochissimo. L'ultima volta che era stato visto, circa 10 giorni fa, era nel cimitero di Torricella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno preso atto della tragedia consumatasi e hanno allertato i carabinieri della locale stazione. Sigillato l'immobile, sono giunti sul posto anche gli uomini del reparto operativo e il sostituto procuratore della Repubblica, Davide Rosati. Il corpo è stato trasportato all'obitorio del Mazzini. I carabinieri hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Carmine di Luca viveva da solo nell'abitazione. Secondo le testimonianze raccolte, era un uomo schivo e riservato. Pare uscisse poco di casa e avesse una relazione con una giovane donna rumena, dalla quale aveva avuto un figlio, tragicamente scomparso alla tenera età di due anni. L'uomo era divorziato da diverso tempo ed era padre di una figlia che attualmente risiede in Calabria. Probabilmente anche per questo il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto con tanto ritardo. Di Luca, comunque pensionato, era titolare di un'agenzeria allocata nello stesso stabile, luogo dell'omicidio. Nulla trapera per ora dalle indagini, anche se le dichiarazioni raccolte a caldo con il capitano del reparto operativo dei carabinieri Giuliani non lasciavano ancora presagire con chiarezza che si trattasse di un omicidio, poi facilmente individuato. Sono in corso accertamenti presso l'obitorio da parte del medico legale, con l'ausilio poi che ci sarà anche dei RIS e vedremo poi di dare risposta. Arriveranno i RIS? Stanno arrivando, stiamo aspettando. È una scena tutta da verificare, cioè del sangue e altre cose. Non è ancora detto all'ultima parola, però ci sono degli elementi che ci fanno propendere per questa direzione. Quali sono questi elementi? Avete trovato dei segni sul corpo? Non ve lo posso dire, vi ringrazio, buon lavoro. Nel pomeriggio sul posto arriveranno ad effettuare i rilievi del caso i RIS di Roma.